La reazione di Barbara Palombelli.prima la madre biologica che si è scoperto essere una clochar, adesso la lettera del fratello, per Serena Rutelli il grande fratello sta diventando un percorso di vita parecchio difficile da affrontare. Il suo passato non fa che ritornare a farle del male, come se non fosse stato già abbastanza cattivo con lei. Il fratello che le farà recapitare la lettera è un fratello maggiore del quale la ragazza non ha mai sentito parlare almeno non fino ad oggi. A 30 anni, è padre di due bambini ed è stato adottato quando aveva solamente nove mesi, quindi né Serena né la sorella Monica erano ancora nate ed è per questo che l'uomo non non era a conoscenza della loro esistenza. Barbara D'Urso durante la puntata di ieri di domenica live ha raccontato che l'uomo ha scoperto di avere due bellissime sorelle. Scoperta effettuata soltanto seguendo la puntata del grande fratello, ha ascoltato con tanta attenzione la loro storia, le ha riconosciute, si è informato. Ecco perché adesso ha deciso di scriverle una lettera e dichiara inoltre di non avere alcuna paura di reazioni negative da parte della sorella. Serena Rutelli accetterà di incontrare il fratello o negherà. Ma Barbara Palombelli come avrà reagito di fronte alla possibilità che le sue due figlie possano ritrovare così pezzi della loro vita? La conduttrice ammette di essere felice, si tratta dell'ennesimo colpo di scena nella vita delle ragazze, prima la madre ed ora il fratello. Lei non ha alcuna intenzione di intromettersi o di ostacolare il loro percorso e lo dimostra il fatto che seppur contraria al rialati non ha precluso alla figlia la possibilità di entrare a far parte del cast. Ad ogni modo serena la scorsa settimana di fronte all'opportunità di incontrare la madre ha scelto di rifiutare, non l'ha voluta conoscere ed incontrare perché non ha alcuna voglia di farlo. Adesso però la questione del fratello è ben diversa, lui non ha a che fare non le scelte dei genitori, il padre è morto di tubercolosi, quindi cosa deciderà di fare? Sceglierà di dargli una possibilità e di conoscerlo magari fuori dal GF o negherà del tutto? Proprio qualche giorno fa sono andate in onda delle immagini in cui Serena durante un confronto con i suoi coinquilini diceva di essere attratta dall'idea di scoprire qualcosa circa gli altri figli dei suoi genitori biologici, quindi potrebbe essere propensa ad un incontro, ma chissà. Lo scopriremo soltanto durante il corso della puntata. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.